Allora siamo appena stati cacciati dal primo casino perché è andata bene, abbiamo giocato, abbiamo vinto in una singola mano finale parecchio e è arrivato il tipo che ci fa Please sir, I ask you to step off the table. E niente, però devo dire da molta soddisfazione, cioè il fatto che noi, che noi, cioè che le mie capacità intellettuali sono una minaccia per il fatturato di un'impresa miliardaria Mi eccita, bellissimo, bellissimo Bellissimo